Ma chi l'ha detto che il cinema italiano è finito con Federico Fellini? Non è affatto vero, perché bisogna saper guardare al nuovo ed è quello che ha fatto l'Università dell'Indiana. Ce ne parla Stefano Salimbeni. Cinema e attualità sembrano fondersi per il regista Mimmo Calopresti e non solo per scelta. Nel suo caso ci si mettono anche le coincidenze. Però poi inizia il turno. Come pochi giorni fa, quando in contemporanea con la proiezione del suo documentario sulla tragedia della ThyssenKrupp, la ciaieria dove nel dicembre 2007 persero la vita sette operai torinesi, è uscita la sentenza di condanna per vertici e amministratore delegato. Coincidenza in questo caso fortunata per studenti e relatori riuniti all'Università dell'Indiana per il simposio sulle nuove tendenze del cinema italiano, che Edi Calopresti, ospite dell'evento, hanno colto dal vivo le prime reazioni a caldo. Ed è incredibile le cose che succedono qui, perché sono tutte vere. Finalmente, ha detto il regista, in Italia si comincia a capire che la vita delle persone è più importante del profitto. Certo, vedere la fabbrica dei tedeschi, già in programma tra un dibattito e l'altro, con il regista in sala e alla luce delle ultime notizie, fa tutto un altro effetto. Lì non c'era di riscaldare. Di sicuro, giova al convegno e al suo organizzatore, il professor Antonio Vitti. Soprattutto qui negli Stati Uniti si diceva che dopo Fellini fosse finito il cinema italiano. Invece io penso che abbia dei bravissimi sceneggiatori, attori, attrici, registi. I film sono ben fatti e che bisogna soltanto promuoverli nel Nord America e nel mondo. Una produzione, quella italiana, che in realtà non sforna solo cine panettoni. Ne ha convinto Calopresti, considerato a buon titolo rappresentante di spicco della categoria dei cosiddetti impegnati. In realtà c'è un cinema civile forte. La verità è che in Italia non è mai finito con il cinema lì, anzi, è quello che comanda. Non lo so, guarda in questi giorni, se pensi appunto a Canvan, a Nanni Moretti e Sorrentino. Alla fine il cinema degli autori è il cinema che è vero, che esiste, perché è l'unico che si vede poi anche in giro per il mondo, quindi ci rappresenta anche. Il professor Vitti, vari libri all'attivo, tra cui uno su Gianni D'Amelio, e un altro appena uscito su Giuseppe De Santis, sta provando a portare quel cinema anche in luoghi per così dire non sospetti. Per il secondo anno consecutivo, per parlarne e per gustarlo insieme, ha raccolto senza aiuto economico alcuno un centinaio tra accademici ed esperti qui a Bloomington, nel cuore del Midwest, per un appuntamento che sta cercando di far diventare tradizione. Al punto che per l'anno prossimo sembra siano già pronte date e ospite d'onore.